Oliva, se vedi questo game sappi... Alla fine è Vladimir top. Visto, visto, visto! Che dobbiamo guardare dai ban? Tanto si può swappare. Io posso bannare... Io posso bannare un tizio e poi swappare un'altra lane. Non c'è più sta cosa del guarda i ban come era prima. Da come si può swappare su e giù. Alla fine è Vladimir. Con il graspe e l'ignite. Starteremo col Doranshield. Visto, qualcuno avrebbe detto Fieric Merit Rundle top, Vladimir mid nella giungla. No! Fieric lo aveva visto fin dall'inizio. Comunque. Stiamo giocando lo Yorick top per il signor Oliva quella nera. Chissà se tornerà mai in live. È un mese che è sparito. E ricordo sempre a tutti che con 5 subgiftati scegliete voi il pick. Che ne ha a tier list oggi di poco. Non sono contento di si è piaciuto. Ne faremo squarmente altre. Pensavo durasse meno. Invece mi sono fermato molto a parlare. Ci abbiamo messo... Abbiamo fatto due ore e mezza di tier list di Pokémon. Per chi non sapesse, oggi pomeriggio ho fatto la tier list dei giochi Pokémon. Dei main games, non spin-off, eccetera. Dei main games. Quindi da blu e rosso fino a... Scarlato e violetto. E niente, è durato due ore e mezza quella tier list. Ho detto, ah, e io ero lì che dicevo, vai, dopo ne facciamo altre... un'altra, altre due, così. No. Una è durata, basta. Però a Wild Rift hanno messo Mordecaise e pubblicizzare sui mobile. Ma perché dovrei provarlo? Cioè, io ho un computer che funziona. Perché dovrei giocare a versione per telefono? Comunque uno Yorick normale perché Oliva mi ha chiesto Yorick normale. Per il meme. E qual è la parte divertente? Oltre ad accontentare la fanbase, che chiaramente non gioca a LOL per PC perché non ha un PC e gioca solo a Wild Rift. E vorrebbe vedermi su Wild Rift. Io l'ho giocato quando è uscito Wild Rift. Ho detto, bene, questo è Wild Rift, però ho un computer, quindi giocherò a League. No, sono rimasto con la zappa in mano così perché il Minion è morto a cazzo. Affanculo, stronzo. Piatelo! Ah, non mi è tirato la Q potenziata. Contento lui. E ho stompato, su. Guarda, non mi ricordo, mi pare che ho giocato Ezreal Mastery. Oh, non mi ricordo. Comunque ci sono gli uncut su Fairy Kloll. Ce ne sono tipo due o tre. Però ci sono. Tieni! Piatelo! Porca miseria, che fastidio. Ok. Andremo ovviamente con la build e le taliti cancerogena che fanno oggi. Piatelo! Schiavi, prendetelo! Prendetelo, schiavi! Prendetelo! Purtroppo lui si cura. Quindi rende un po' inefficace il poke degli schiavi. Piatelo! Piatelo! Addosso! Che fastidio. Che fastidio questo Yorick! No, mi ha preso il graspio, ragazzi. No. Piatelo! Eh sì, mo ti prende. Ma è sempre full vita quel tizio. Ora che miseria. Questo... Vabbè. Non è che ci posso fare più di tanto qua. Oh, ha insta-flashato. Cioè non ha neanche aspettato dire magari provo a fare autoattacco su... No, ha insta-flashato però. Subito, istantaneamente. Ah, la cosa buona è che Vlad non può pusciare perché è Vladimir, quindi... Arrivo e vedo il padrone. Si prospetta un bel game. Eh, Cubico, aspetta a dirlo. Aspetta, caro. Aspetta. Perché per adesso Trandol mi è appena venuto a fare il culo. Cosa? Ma Diana? Ma? Ma che cazzo? Ah, questi sono storti proprio. Fai la W. Bravissimo. Pensavi di uscire? Pensavi che saresti uscito? Ah, ah, ah. Vabbè. Ok. Abbiamo preso un bel flash a questo. È tempo di spargere un po' di tombe adesso a sinistra qua. Oh, sì! Il boss degli schiavi è arrivato. Il boss degli schiavi. Il capo schiavista. Guarda qua che pizze tiro alla torre adesso. Ecco, Yorick che vede una torre. Yorick spacca tutto. To. Ma la doppi... Ma... Sbaglio o non ha subito danni dalla W? Cos'è sta storia? È successo qualcosa? È una mia impressione che lui non subisce danni se tira il W. Ma la maiden sta sotto torre a morire? Animo c'era, Dio. Ma come cazzo funziona sto campione? Ho visto in tantissimi video. Ho visto la pubblicità e mi sono spaventato. Non lo so. Good Trundle. Ma con la W ti re-fulli? Ma è sempre stato così? La build? Cosa c'è la build? C'è delle scarpe che build devi girare. Sto più che altro cercando di capire... Ma forse è sempre stato così? Forse sì. Ops. Ma perché si sta re-fullando? Ma cosa è successo? Perché sto cretino si re-fulla? Li hanno raddoppiato ancora la W. A parte che non sapevano anche curassere la W. Cioè, ma adesso se fa la W hit a un nemico si re- Cioè, si cura... Si cura del triplo a vita che ha perso quella W. Eh, tocca fare executioner subito. Ma che cazzo? Ma pensa a te. Dove ti pare? Poi è così lento pushare che non serve. Cioè, prendete la W da che prima ti... Cioè, dovevi pagare in vita, adesso ti curi. Cioè, se tu fai la W in mezzo in minion, ti curi più di quel che spendi. Prima era un downside del fatto che perdi vita, ora no. Ora perdi vita, ma... Cioè, recuperi il triplo. Giampietro, passami il fucile. Amo qualsiasi tipo di content che porti. Non solo LOL. Grazie Sword, grazie mille. Metcow, grazie anche a te del sub. Gentilissimi, ragazzi. Qua dietro, forse? No. Scomparso. Ok. Non so, ragazzi. Sto cercando di capire. Mi sembra forte. Ok. Vabbè. Io faccio il mio lavoro. E distruggo tutto. Grazie Sam, belli. Boh, e mi sembra un po' troppo forte la W. Cioè, la W dovrebbe essere una cosa del tipo... Tu sacrifichi della vita per scappare, non la usi per refullarti. Cioè, quella è la Q. Perché mettere una cura del genere alla spell che dovresti usare per sfuggire? Cioè, non ha senso poccarlo. Perché tanto se gli faccio così... E lui decidesse di fare W. E lui si refullerebbe... Guarda! C'ha pure... C'ha l'ingredaction! E si è refullato! C'ha l'ingredaction! Cioè, li ho applicato... Con l'execution sarei refullato comunque! Ma perché? Scusami, cioè... Si stava incazzando come una maiala. Guarda, sicu... Ma non ha senso! Ma si cura più del costo in vita che spende per usarla! Ma che senso ha! Dovrebbe essere una spell difensiva! Boh! C'è ora due spell per refullarsi, non più una. Non lo so. Cioè, quella cura lì che ha fatto, avete visto? Lui aveva... Lui aveva... L'execution al calling. Cioè, c'aveva le cure ridotte. E se... Vabbè... Non so se avete notato che si è refullato lui. Guarda! Ok! La W è improvvisamente diventata una mossa... Una mossa che ti cura. Vabbè, la cosa buona è che non ce l'ha adesso. Eh, no. L'hai usata a cazzo di cane? Beccati questo. Oh, fucker, bentornato! Bentornato, caro fucker. C'hai un paio di pic, tu. Ti ricordi di questa cosa? Vabbè, sono Iori che stomperò tutto. Bene, fucker. Io vedo... Hai una shivana P e un talon. Confermi? Stai lì, scemo. Vabbè, è interessante. È The Ring che fine ha fatto. Vuoi la verità? In questo momento non ho voglia di giocarci. Molto, molto, molto semplicemente. Non ho attualmente voglia di giocarci. Non ho voglia di tirar dritto con il DLC. Non lo so, in questo momento c'ho altro nella testa. Mi è tornata voglia di Yu-Gi-Oh! Parecchia voglia di Yu-Gi-Oh! Eh, fucker. Perché quella modalità è una droga, ragazzi. La modalità... Ora sto organizzando con altri streamer. Con altri streamer. Martedì pomeriggio abbiamo una bella collaborazione. Non vi spoiler qui perché... Non si sa mai. Tonk. Tonk! Molto bene. Non si sa mai. 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 Ah, comunque Yorick è veramente un dito al culo come campione. Oh, eppure lì. Andiamo back. No, ma perché andare back? Ok. Qua sì Ah Uh Vabbè qua son morto però Già che ne ho killato uno Cioè si refullano uno più dell'altro Sette Stava sette uno sto tizio Mi ha dato 600 gold Ok Si rilda sui con oggetto Perché c'è la roba che è slow L'eclipse mi piace di più sinceramente Il game delle cure Ma porca misera davvero Cioè Meno male Meno male che c'ho sta spadina di merda E comunque non sembra faccia tanti miracoli Perché a me sembra che essere full in uguale Però Probabilmente Allora anzi Sicuramente se non l'avessi avuta Trandall non lo killavo Ecco Nice The killer Run doggy Ok Evochiamo gli schiavi Porca il push Il push Cosa Ma io non No no Oh no Ma è tornato il babysitter Quanta gente c'è Via Gabbio Ok Porca miseria Quanto sono forte Sborrati in testa A tutti A tutti Col cazzo L'asciugamano Per vincere in iron Ma noi ci mettiamo L'asciugamano Va benissimo Ma come siamo Undici a quattordici Dopo la mia triple kill Ma che sta succedendo Ma stanno uno Peggio dell'altro Ma devo fare tutto io Ma non dovrebbero essere Iron anche i nemici Vieni maiden Andiamo via Eccole qua No qua non scappo Mai nella vita scappo Vabbè Round 2 Oh se entrava la culo Killavo Ciuccia maiden Ci hai provato Merda Due livelli sotto Il mio di carry Merdinger sa che Deve Upgradarsi Questo No vero Ma ancora C'è gente Che va Vabbè Io vado dove mi porta Il cuore Già capito Devo spaccare tutto io Qua quindi Spacchiamo Oh Posso tippo Ma questa Si accorta che sto tippando addosso Va bene Boom Molto bene Kate ha fatto la sua prima kill Un applauso Ti ho mids Ok Distruggo tutto io qua Non c'è problema Riusciamo a prendere anche Qualcosina qua Oddio con Leimerdinger qua Dai spacchiamo tutto Oh il donger Il donger Dong Dong Ah si Ah si Racconti Racconti Signorina Dica Merda Io spacco tutto Ragazzi Saltatele addosso Ma non ci credo Ok Yorick distrugge Yorick demolisce C'è un suono della ruspa Percepisco in chat Eccolo Eccolo qua O lo buildo Anche se Ormai ho distrutto Tutto qui Non c'è più niente A tirare giù Ma va bene Perfetto Perfetto Sai che il liandre È considerato su Yorick Hai ragione Cavoli Non ci avevo pensato Non penso Lo builderò Signor fucker Grazie Questo sub giftato Lei è gentilissimo Non si smentisce mai Schiavi a me Andiamo a pushare tutto Andiamo a pushare tutto Merda Lei c'ha più farm di me Ma what Shivana Hello That's crazy Tiro giù tutto Tiro giù tutto Ragazzi Sono inarrestabile Spacco la base Da solo Spacco la base Io Non vi preoccupate Top Manca quello Giù vi dem Grazie il sub Bello Grazie il support Ecco qua A me schiavi Il torrettone Mi pare un po' esagerato Eimer Un pochino esagerato Il torrettone Però Mi piace Mi piace la tua Grinta nel pushare Molto bene Molto bene Metto il gabbio No Mi ha preso Eh vabbè Sono morto Peccato Se doggiavo la freccia Mi salvavo Ecco la gabbia Messa lì Vabbè Ma gli ho aperto La base Questo Yorick È per caso Competitivo Merda Se sono competitivo Oggi Oggi Ho la competizione Nel sangue Ok È distrutto Serilda Eh sì Quanta armor C'hanno Ma poca roba Prendiamo questo Brutalizer Da 5 di letality Che schifo Andiamo con questo Al tp adesso Non mi risolve niente Questo è bello Mi piace È un'ottima baron call Vado a fare un saltino top E devo continuare Il mio grande push Così metto persione E verranno tutti In top Bu Questi li prendo io Ecco Eeeh Ce n'è uno È saltato a scampia What? Oh prendetela Vieni qua Sodomizzata 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 Signore Bene Eeeh È ora di spaccare Tutto Ma guarda cosa c'è Un bellissimo inibitor Da distruggere Mi piace distruggere Le cose È È la mia attività Preferita Guardiamo che c'è Trandole qua Che What? Ah merda Ci manca Sivana Ci manca Il pezzo Più importante Del team Non l'avevo mica visto Lei ha fatto Baron E poi è andata A fare I campi Della giungla Ecco qua Ok Almost Ciao Manu Lo voglio vedere Anche io Voglio vedere Le mie strutture Assolutamente Memento mori Ho capito Dammi il tempo Di Qual è questo Immagino Eh un attimo Ah no Aspetta Eh no Mi tocca fare l'altro Questo non posso buildarlo Perché il Serilda È troppo forte Su Su Yorick Quindi Boh Mi farò questo Tanto ormai È abbastanza indifferente Quello che buildo Nel senso Eh ci stava Però Boh È che il Serilda C'ha questa Ora C'è a dire che Il Serilda Vecchio era più forte Perché slowava sempre E invece Ora slowava soltanto I nemici sotto metà vita Però tu ci avevi tipo Cosa facevi con Yorick Tiravi addosso La E su qualcuno Gli schiavi andavano Attaccare Con l'ira Permaslowato E gli schiavi Lo uccidevano Perché Era sempre Slowato Dal Serilda E l'hanno cambiato Adesso Sono i nemici Sotto metà vita Volete da me Perché l'unico Che fa qualcosa Viene pingato Perché l'unico Che fa qualcosa Viene pingato Non capisco Assurdo questo mondo Assurdo Toh Incredibile E mi pingano Mi pingano Perché sono troppo forte Ecco perché mi pingano Soez mid Diana Stai un po' bene Dice lei Grazie Spino Juvedem Grazie di sub Belli Allora Mi sono impegnato Eh sì L'impegno è stato Non indifferente Fucker Ma hai già due pick Va bene Un altro C'hai già Io ti ricordo Che hai Talon E Shyvana P Cioè puoi cambiare Se vuoi qualcos'altro Puoi cambiare Necdip Forza Cosa ti gioco Caro mio Cosa ti gioco Allora Danni Vabbè Top damage Poi abbiamo la scaletta Qua ma vediamo i danni Alle strutture Alle strutture Oddio ragazzi Ma dovete picchiare le torri Per vincere Quante volte Devo dirvelo Quante Certo che si può Certo che si può Certo fucker Subito Certo